In un paesino di montagna c'è una mucca che fa del latte buonissimo e tutti gli abitanti vanno a comprarlo dal contadino. Vorrei due litri di latte. Salve, sono il sindaco. Ho saputo che tutti gli abitanti del nostro paese vengono a comprare il latte della sua mucca. Mi chiedevo se fosse disposto a venderci l'animale per poterne fare un bene pubblico. Per me va bene, ma voglio 100.000 euro. 100.000 euro? Sono tanti, vanno bene 75.000 euro? No, ne voglio 90.000. Senta, facciamo 80.000 e non se ne parla più. Ok. Lei ci ha truffati, la mucca non fa più latte. Guardi, non so cosa dirle. Provate a chiedere direttamente alla mucca, lei sa anche parlare. Mucca, come mai hai smesso di fare il tuo dovere? Ascolta, adesso ho il posto fisso. Sono impiegata comunale.